L'occasione è il ritorno della Befana del Vigile, tradizione nata negli anni 50, ultimamente abbandonata, che dallo scorso anno è tornata grazie agli appassionati dei veicoli d'epoca, soci di numerosi circoli. L'obiettivo? Aiutare chi è in difficoltà e non sono solo i profughi. Siamo un paese di montagna, la gente è orgogliosa e anche quando si trova in difficoltà fa fatica a manifestarlo. e scoprire attraverso i frati Capuccini che ci sono tante famiglie che tu vedi vivere dignitosamente, che però sono in difficoltà e ricorrono al loro aiuto, ti apre il cuore e ti fa capire che manifestazioni di questo tipo vanno ripetute e vanno anche propagandate perché il risultato sia ogni anno migliore. E così lo scorso anno si sono mossi in sordina raccogliendo qualche migliaio di euro in alimenti che i frati di Mussoi hanno provveduto a distribuire. Quest'anno invece si dà visibilità alla Befana del Vigile con questo auspicio. Che non solo coloro i quali appartengono a questa associazione tubulista e portano le loro derrate, ma anche commercianti, centri commerciali dove anche siano presenti in piazza portando qualcosa, anche gli stessi cittadini perché il tutto è per solidarietà, il tutto verrà poi portato alla mensa sua a Mussoi e verrà distribuita alle famiglie più bisognose. L'appuntamento è per il 6 gennaio in piazza dei Martiri. Un tempo erano i cittadini a portare un dono ai vigili al lavoro per la Befana e oggi che alcuni di loro, quelli capitolini, sono al centro di Alla Bufera? Sono nella Bufera perché lì è un problema tra il comando polizia locale e la giunta marino, ma diciamo che i politici forse si dovrebbero preoccupare perché il problema avrebbe subito risolto di portare avanti la legge della polizia locale. Noi abbiamo una legge, la numero 6586 che ha circa 28-29 anni, è un po' vecchia, dovrebbe essere aggiornata.